Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo fiocco di creatività. Oggi voglio andare a creare insieme a voi su Procreate Pocket un wallpaper per iPhone. Quindi ho già creato l'opera, insomma la tela, però basta che voi andiate in dimensioni schermo, vi crea le dimensioni per un wallpaper. Vado poi ad utilizzare le dita perché non ho pennini per l'iPhone, anche se in realtà ho questo, ho questo qua della bambù ed è quelli classici proprio con la punta enorme, ma non è che mi trovi benissimo. Ho visto un po' stamattina, l'ho provato prima di fare questo video e mi trovo meglio con le dita. Però possiamo provare anche con questo, perché questo alla fine costa, mi sembra, 10 euro, non di più. Quindi se magari voi preferite avere uno stylus per l'iPhone, potrebbe anche esservi utile questo. So che ci sono degli stylus da poter utilizzare con la punta fine, nello specifico Martina, che è una ragazza del gruppo Telegram, che saluto, ha acquistato adesso un pennino sempre della Wacom, bambù, da utilizzare proprio sul suo iPhone. Ha detto che lo sta provando e poi ci farà sapere magari come si è trovata. Io però ho questo e quindi utilizzo questo. Poi come set di pennelli ho scaricato questo Watercolor Christmas di, non mi ricordo, Studio Kitsch mi sembra, sempre dal sito di Holly Pixels. Ho acquistato ovviamente e scaricato questo. Lo trovate nell'info box, trovate il link nell'info box se lo volete acquistare anche voi. Quindi qui ci sono delle texture e degli elementi in Watercolor. Provo a usare il pennino, anche se come vi dicevo per scrivere mi trovo meglio con il dito, però non scriveremo perché useremo magari un font e useremo appunto l'aggiunta di testo. Allora, andiamo a prendere la texture, perché mi piace farlo a sfondo tipo acquerello, infatti è Watercolor, e andiamo a prendere un colore che possa andare bene per lo sfondo. Io sinceramente non ho tantissimi colori, quindi andrò a usare magari questo. Sì, usiamo questo, comunque come tavolozza magari questa la cancelliamo perché non c'è niente e impostiamo di default, anzi no, vado a cercarmi una tavolozza natalizia. Ecco, Christmas Carol. Vediamo un attimo se questa me la fa utilizzare come su Procreate normale. Allora, importa tavolozze? No. No, me la fa proprio importare. E allora facciamo una cosa. Importiamo un file e la facciamo noi. Modifica, aggiungi, inserisci una foto, prendiamo questa, e creiamo noi la tavolozza natalizia. È un po' noioso, però pazienza. Ci mettiamo lì e la facciamo, così almeno vi mostro anche come creare una tavolozza natalizia. Nuova tavolozza, la chiamiamo Natale. Ora impostiamo di default e la creiamo. Si fa così. Quindi tengo premuto sul colore, apro i colori e la importo. Magari metto solo questi primi colori perché altrimenti stiamo qui fino a dopodomani. Però era giusto per averla, per questo progetto. Magari ci aggiungo anche, aspettate, questo lo metto qui perché ho visto che ho saltato questo rosso. Ci metto anche un colore che possa andar bene per lo sfondo, ma mi sembra già questo possa andar bene. Perfetto. Ok, quindi fine. Andiamo a eliminare questa foto e usiamo, come vi dicevo, questo. Proviamo. È un po' forte, però se io abbasso l'opacità... Ok, dai, ci siamo. Poi, nuovo livello, mi raccomando, facciamo tutto in livelli separati. E andiamo a prendere... Questo mi piace un sacco. Io sono fissata con l'agrifoglio, quindi lo faccio in verde, più piccolo ovviamente. Troppo. Cioè, i comandi qua sono veramente odiosi, eh. Perfetto. Lo andiamo un po' a spostare. E a ingrandire. Poi lo ruoto un po' perché vorrei che solo il rametto, ecco, sbucasse da qua. Poi lo vado a duplicare e questo duplicato lo vado a riflettere orizzontale e verticale. Perfetto. Perché poi... L'ho fatto solo orizzontale. No, vabbè, ecco. Perché poi lo voglio portare qua. Perfetto. Vediamo se riusciamo a fare le... Come si chiamano? Le... Aiuto. Berries mi viene. Mamma mia, non mi viene. Dopo quando mi verrà ve lo dirò. Rosse. E andiamo a prendere un questo, Christmas Detail. Su quale sono? Sono su quello sbagliato. Quindi, come avete visto, ho fatto questo gesso per bloccare tutte le parti già selezionate sulla... Cioè, tutte le parti dipinte sul livello. E vediamo... Ok, perfetto. Riusciamo perfettamente a colorarle. Magari faccio il pennello un po' più piccolo. Ma mi sa che è già piccolo. No, c'era la modalità... Modo di farlo ancora un po' più piccolo. E vado a colorare le bacche. Ecco, non mi veniva. Dell'agrifoglio. Cercando di stare il più possibile nei bordi. Magari se avete un pennello ancora più piccolo, ancora meglio. Poi, scusate, questi bracciali fanno un rumore assurdo. Poi, appunto, vado sull'altro livello, sempre blocca alfa. E lo vado a fare anche qua. Perfetto. Qui c'è un po' di... Però, se io riprendo il verde... Dovrei riuscire a ridipingerlo. Ok, sì. Mi va un po' sulla bacca, eh. Devo stare più in qua. Ecco. Ok. Mi ha preso un po' di nuovo la bacca, ma come vedete non è che si veda. Poi, nuovo livello, andiamo ad aggiungere il testo. Aggiungi testo. Non so cosa ci vogliate scrivere. Tipo dicembre, facciamo. Con il doppio tocco c'è modifica stile. Eh, infatti, prima non funzionava perché probabilmente si era un attimo impallato. Quindi andiamo a scegliere un font più carino. Ne vorrei uno scritto tipo a mano. Questo. Bold, black. Vabbè, usiamo questo. Ok. Poi c'è lo stile font e gli attributi, ma a noi va bene così. Non è che mi faccia super impazzire, però va bene. E poi voglio fare un'altra cosa con voi. Voglio duplicare questo. Qua creo un nuovo livello. Ci vado ad aggiungere uno sfondo glitterato. Lo faccio spesso questo, anche su Procreate normale. Non ne ho uno verde, quindi andremo con il classico oro natalizio. Bene. Lo vado a mettere qua, appunto, dietro. E faccio maschera di ritaglio. Poi vado a scegliere questo livello. E lo vado a spostare un po'. Anzi, mi sa che farò il contrario. Facciamo così. Mettiamo questo sotto. Così abbiamo davanti quello glitterato. Sono sempre su quel livello. Quindi, sopra livello glitterato. Sotto andiamo ad abbassare un po' l'opacità con l'ombra verde. Poi vado a raggruppare tutto. Seleziono il livello. E lo vado ad ingrandire perché... Ok, era un po' piccola come scritta. Bene. Quindi poi vado ad esportare. Ah, vi lascio comunque qua nelle schede la playlist Procreate per principianti. È su Procreate per iPad. Però ci sono più o meno le stesse cose in Procreate Pocket. Quindi, cioè, si riesce a capire bene lo stesso. Sposto un attimo l'ombra perché non mi fa impazzire. Si può anche spostare semplicemente facendo tap dalle parti. in modo da spostarla proprio di poco. E adesso vado ad esportare. Quindi, condividi... No, ho sbagliato. Ho cliccato su PDF. Ok, ci siamo. Condividi JPEG. E vado a salvarla. Una volta salvata, la posso usare come sfondo. Semplicemente cliccando qua. Usa come sfondo. E adattandola un attimo. Vedete che viene un bello sfondo di Natale. Quindi, insomma, di Dicembre, di Natale. Ma poi potete fare quello che volete. Quindi, questo era tutto per questo video. Spero che vi sia piaciuto. Noi ci vediamo domani. Anzi, questa la mettiamo qua. Che carina. con un nuovo fiocco di creatività. Grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto, lasciatemi un pollicino in su. E a domani. Vi mando un bacione. Ciao! Ciao!